Dopo tanti anni, dopo il Letterman Show che è venuta da circa 30 anni, Costanzo è ancora un ucciolo a mananzi, ha i secchi luci cabelli, il nuovo personaggio della televisione italiana che è imbattibile, l'Eylander della TV, Dino Piacenti. Non si tinge manco i capelli, quanti? Un saluto da Alessandro Siani a Weekend Dance. Appena hai l'occasione, saluto Massorota. Ragazzi, Weekend Dance, c'è una canzone, Weekend Dance, un saluto, un bacio, Novas, Novas Piccirill, piccolo piccolo, Piccirill, ho il log, ho il log, ho 50 anni, ho un ciuffo che è Little Tony, veramente, sono il nuovo Bobby Solo ragazzi. Tu quanti ne hai? 50. 50? 5? Qualcuno in più, no, 50? Grazie Fiore, ci vediamo, ciao! Un saluto a tutti gli amici di Weekend Dance, buona vita dal vostro amico Gigi D'Alessio, ciao!